L'ente che sta mediando, riferimento allo sciapro dei lavoratori portuali, è l'autorità di sistema portuale. Nei giorni scorsi, proprio a Palazzo Rosciano, un incontro con tutte le forze interessate, ma sentiamo le parole del Presidente Luciano Guerrieri. Comprendo i lavoratori anche quando reclamano aumento retributivi, però per questo ci sono precise relazioni industriali rispetto alle quali è meglio non derogare. Ci sono trattative nazionali, ci sono cose che si possono fare a livello locale. Bisogna parlarsi e le proteste possono essere anche giuste, ma alla fine bisogna trovare le soluzioni. Una nota si è definito amareggiato perché comunque in autorità di sistema portuale c'è stato un incontro proprio nei giorni scorsi tra sindacati, imprese e la stessa autorità che ha fatto una sorta di mediazione. Quindi lo sciopero in qualche modo si poteva evitare o comunque le preoccupazioni? Si parla di dieci giorni. Io spero che questi giorni in cui l'autorità ha fatto queste riunioni si è delineato un terreno di confronto che possa garantire dei risultati rispetto ai problemi che ho evidenziato e non solo del porto di Livorno, ma nel porto di Livorno ci sono. Quindi credo che questo lavoro sia servito. Spero che al di là delle scioperi le organizzazioni sindacali parlino con i lavoratori e lo stesso le imprese riflettano su quello che è stato detto. C'è un ampio terreno di lavoro per confrontarsi e per trovare soluzioni. Questa è almeno la mia opinione. quindi meglio se nei prossimi giorni si riesce a far maturare una ripresa del confronto e è questo a cui punteremo.